Emanuele, è il caso di dire finalmente a Busta, hai voluto fortemente la propatre, la propatre ha voluto fortemente te, tutto bene ciò che finisce bene? Tutto, assolutamente, è stata una scelta, diciamo che l'ho scelta molto prima e sono felice di essere arrivato e di cominciare a lavorare dopo un lungo tempo di stop e così. Hai subito trovato feeling con i compagni, qualcuno conoscevi già, qualcuno si è anche cresciuto calcisticamente nei settori giovanili giocandoci contro, tanti giocatori della tua età, una squadra giovane con qualche esperto, il giusto mix? Giusto, sono arrivato qua, il gruppo comunque è stato un gruppo che mi ha colto bene, diciamo che il primo impatto mi sono trovato bene e speriamo di costruire qualcosa di interessante. Al tuo acquisto, social della propata impazziti, è arrivato un grande acquisto, tanti tifosi hanno detto? Sinceramente magari aspettano molto da me, io sono venuto qua con la testa di fare molto bene e spero di ripagarli in campo. Subito dialogo e assimilazione di quelli che sono i concetti del mister, che impressione ha avuto nei primi allenamenti e soprattutto si avvicina anche il primo impegno ufficiale? Ma ha dovuto comunque, cioè prima si parte meglio è, perché comunque sono arrivato anche abbastanza tardi, quindi capire subito il meccanismo è una cosa importante, quindi prima si accelera meglio è. Campionato che inizierà proprio contro una tua ex squadra, la Cararese? Assolutamente, contro la Cararese è una squadra forte, comunque ha sempre fatto un percorso importante e se giocarcelo giocheremo, vedo l'ora.